No, ringrazio a lui, di parte mia farò il massimo, come tutti gli altri, faremo il massimo e speriamo di fare una stazione buona. Ma pensi che la meta può diventare un grandissimo di questo gioco o forse è esagerata per valutazione? Cioè la meta può diventare un campione? No lo so, farò il massimo, è l'unico che possa dire. L'ultima, torniamo un attimo sul ruolo, ti senti di avere le caratteristiche giuste per essere un esterno d'attacco oppure rispetto a quando eri più giovane è cambiato tutto, che in un trequartista giocavi in maniera differente magari aspettando il pallone e spalla alla porta e girandoti, puoi fare l'esterno d'attacco, puoi essere un buon esterno d'attacco? Sì, lo posso fare e penso che tutti gli attaccanti che ci stanno nella squadra hanno queste caratteristiche e penso che siamo in una squadra forte e speriamo di farlo bene.